Ciao, sono Teresa, sono originaria della Romania, vivo in Italia da vent'anni e ho deciso di venire qui da voi per risolvere il problema dei denti. I denti pian pianino, pian pianino, sono comparsi un sacco di problemi. Prima ci fa male uno, poi tutti, tutti, io non avevo un dente che non faceva male. Le gengive sempre infiammate, prendevo gli antibiotici una settimana sì, una no. Al che ho visto che non se ne può più, ho deciso di andare in ricerca di un posto dove andare a curare i denti. Ho trovato un annuncio sul Facebook, al che poi ho guardato e ho detto perché non andare, perché non contattare, perché non vedere di cosa si tratta e cos'è. Inizialmente ci hanno fatto un preventivo per telefono, poi sono venuta qui avendo fissato un appuntamento. Sono venuta qui e ho risolto il problema nel miglior modo possibile. Cominciando dall'acqualenza iniziale, da tutta la giornata, da tutti i giorni che sono stata qua, mi sono sentita bene. Il dolore non c'entra, perché il dolore è normale. Se uno pensa che deve togliere un dente, il fastidio c'è. Ma il risultato che conta. Il risultato conta e passando i giorni mi trovo, mi ha seguito dopo un anno, io non so più cosa vuol dire aver mal di denti. Sto benissimo. auguro a tutti che hanno problemi di stare come sto io, di venire, di andare, non stare come il dolore. Perché il dolore dei denti è una cosa, una cosa terribile. Ci fa star male, ma male da tutti i punti di vista. Certamente, certamente. Anche se non sono venuti, ma l'ho già fatto. Avevo già parlato, io da tutti, da... Che mi hanno chiesto loro, ma dove sei stata? Sono stata a fare i denti, dove? Ho detto il posto, ho mostrato, guarda, questo è il sito sul Facebook, questo è l'indirizzo. Mettetevi in contatto, se dovete andare, andate lì che vi trovate bene. Grazie, grazie a tutti quanti. Grazie a tutti.